Buonasera a tutti, io mi chiamo Giovanni Ghirga, sono pediatra e medico per l'ambiente. Medico per l'ambiente, ma come collegare l'ambiente con l'Europa? L'ambiente è la vita di tutti i giorni, quindi è possibile collegare l'Europa con la vita di tutti i giorni. La maggior parte delle leggi ambientali vengono fatte in Europa e poi recepite dall'Italia, quindi è molto importante avere un ruolo in Europa. L'ambiente è la vita di tutti i giorni, è l'aria che respirate, è l'acqua che bevete, è il cibo che mangiate e l'ambiente purtroppo è collegato alle malattie. Sapete che parlare di inquinamento oggi è molto semplice perché è riportato continuamente il danno da inquinamento. Io sono vent'anni che lotto per l'ambiente in tutta Italia e ormai abbiamo fatto tante augurà per tutto il centro Italia e diciamo siamo abbastanza conosciuti. Leggevo adesso dei messaggi su Facebook continuamente, ti prego se sarai eletto aiutaci, ricordati del lago di Bolsena cosa hanno fatto. Altri, aiutaci per il lago di Vico, aiutaci, abbiamo l'inceneritore Albano e Civitavecchia, ma la domanda è che cosa abbiamo lasciato fare di questo paese? Perché siamo tutti colpevoli, tutti responsabili, perché ci piace sentirci dire che un inceneritore ha i filtri e che poi non fa tanto male e che siamo terroristi, ci piace sentirci dire che il carbone è pulito e che in realtà non fa male, ci piace sentirci dire che tutte le migliaia di industrie a biogas che stanno invadendo tutto il territorio in effetti è una nuova forma di energia rinnovabile, perché? Perché dà fastidio ribellarsi, ma adesso è una cosa diversa. Noi per questi vent'anni andavamo in giro per tutta l'Italia, ci giravamo, non c'era nessuno dietro, adesso ci giriamo, siamo milioni di persone che condividono le stesse idee. Che cosa possiamo fare per l'ambiente in Italia, in Europa? Possiamo fare tanto. Innanzitutto chiedere l'istituzione di un tribunale europeo dedicato per i reati ambientali, con delle pene severe che possano veramente disincentivare e chi di noi sarà su dovrà controllare che le pene saranno veramente severe, che non sia il solito trucco. Dovremmo cercare di spodestare lo scettro che hanno di questa Europa, i banchieri e l'alta finanza e darlo a voi uno per uno, dividerlo in milioni di piccoli pezzi e ognuno potrà dire che conta. In Europa potremo fare tantissime cose, fare e incominciare il lento passaggio dai fossili verso l'economia verde, che non offre solamente saluto, ma offre anche tanto lavoro, in una corretta gestione dei rifiuti. Sono tantissime volte che lo dico, lo dovete sapere perché parlano di crisi del lavoro. La Commissione europea si è rivolta ai paesi come l'Italia e ha detto che ci sono in Europa in una corretta gestione dei rifiuti 2 milioni e 400 mila posti di lavoro e non ne sentite parlare da nessun cornuto che va ai talk show e parla di politica, nessuno. Gridateglielo in faccia che non ne parlano. L'altro anno si sono raggiunti in Europa un milione di posti di lavoro nelle rinnovabili e nessuno ne parla. È un lavoro che non interessa perché le rinnovabili devono essere boicottate, perché ci vuole il carbone pulito, ci vogliono megacentrali a gas. Quando per noi il vero progetto energetico è una forte, fortissima spinta delle rinnovabili in Italia, non siamo stupili, né sogniamo che solo con le rinnovabili si possa fare. piccole centrali a gas ad altissima efficienza distribuite nelle varie regioni a seconda del fabbisogno, non che creiamo energia a Civitavecchia e la consumano a Milano e con una spinta anche di ricerca verso le rinnovabili. In Europa dobbiamo cercare di togliere gli incentivi a tutte quelle produzioni che non sono vere energie rinnovabili come le centrali a biomassa e le centrali a biogas. Le centrali a biomassa, la combustione del legno, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, produce delle polveri fini che hanno effetti indistinguibili da quelle prodotte dai fossili, indistinguibili e contribuiscono alla mortalità e alla mobilità. le centrali a biogas, nella provincia di Roma 160 centrali a biogas, sono elencate come delle industrie, delle aziende insalubri. Come fanno a ricevere gli incentivi? Se li sognano quando andiamo in Europa gli incentivi? Devono investire loro. In Europa noi cercheremo di combattere in modo positivo l'immigrazione, nessuno ne parla, ne parlano solo quando arrivano i barconi. Ci sono due modi per combattere l'immigrazione in senso positivo, per noi e per gli immigrati che sono costretti a perdere la dignità e andare via dai loro paesi dove starebbero bene se ci fosse un minimo di sviluppo. E allora ci sono fondi europei dedicati per questo, dovremmo cercare di vedere perché questi fondi se le ruba il tiranno di turno appoggiato da qualche paese europeo o nordamericano. Basterà un minimo di sviluppo per far sì che rimangono lì e non rimuogliano affogati. Lo sapete che le Nazioni Unite hanno verificato e c'è un documento che nascondono, le Nazioni Unite ci hanno detto che fra qualche decennio se non si provvederà a ridurre la combustione dei fossili ci saranno 50 milioni di immigrati che non hanno più nulla da bere per l'effetto serra che abbiamo provocato noi con la rivoluzione industriale. La possibilità di aiutarli in quei paesi e dargli dignità e evitare queste immigrazioni di massa sfumerà e ci sarà una catastrofe ambientale. Allora, allora diranno purtroppo non si poteva evitare, oggi si può evitare. Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, qualche settimana fa è andato nell'Unione Europea, le persone più importanti, il Presidente, gli hanno detto va bene che lottiamo per la Crimea, va bene che lottiamo per la Siria, ma se non si fa qualcosa per il riscaldamento terrestre ci sarà una catastrofe ambientale. Gli hanno dato delle pacche sulle spalle perché le lobby dei fossili non vogliono mollare, ma con il 5 stelle all'Europa troveranno un grandissimo avversario, piccolo ma fortissimo e guardate che conta più il coraggio di quello che uno riesce a fare. Grazie, mi raccomando non sbagliate, 5 stelle.